Abbiamo incontrato l'allevatore Matteo Zilocchi che adesso ci dirà il motivo per cui ha deciso di portare le vacche in fiera. Sicuramente il principale motivo è quello di confrontarsi con tutti gli altri elevatori qua presenti, anche per capire qual è il livello che si raggiunge sempre nel proprio allevamento a casa. Quindi sono sempre molto felice di poter partecipare alla principale rassegna nazionale qua a Cremona. E quali sono state le impressioni che hai avuto sulla fiera, che stai avendo? Sicuramente la fiera di Cremona è l'appuntamento principe in Italia per quanto riguarda la zootecnia, insieme a altre manifestazioni come può essere quella di Verona. Per noi è sempre molto importante, qua vediamo sempre un'ottima organizzazione, speriamo comunque che possa sempre essere un punto di riferimento anche negli anni a venire. E qual è il tuo pensiero riguardo al futuro? Comunque sei un ragazzo molto giovane. Ma io credo che l'agricoltura sia fondamentale, cioè l'agricoltura è tutto quello che ne è connesso come l'allevamento e la zootecnia, perché comunque siamo produttori di materie prime che sono chiaramente fondamentali per quello che è la catena alimentare. Grazie mille. 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 Grazie mille.